Vabbè, intanto tutte queste mail e telefonate ti trovano concorde, signor no, quindi è tutto tuo pane. Ma non è neanche tutto il mio pa, perché poi sembra che io ci goda come il famoso marito che se le taglia per far rispetto a qualcuno. Il ruolo è quello. È chiaro che io non riesco più a difendere una persona. Non fosse che per gli obiettivi che si era proposto e ci aveva detto, io queste cose me le ricordo. Con me mai più in serie B, le sette sorelle finiscono una... Parliamo di cose serie. Le cose serie sono mai più in serie B. Ma chi c'è? Chi c'è? Chi c'è? Allora, scusa, questi sono due discorsi diversi. Se a me, e lo ripeto per la centesima volta, danno e ho fame un piatto di pasta scotta da una parte e nulla dall'altra, io è chiaro che mangio la pasta scotta, ma se tu mi chiedi se quello era un piatto buono ti dico che fa schifo. Questa è la differenza. Non è vero, non è vero. Sì, sì, questo è vero. A qualcuno la pasta scotta può anche piacere. I bambini, per carità. Primo, secondo, secondo... E sembra il vinello dell'altra volta. Sì, se mi lasci finire. Secondo ti fa passare la fame. Sì. Hai capito? Sì. Ti fa passare la fame. Non parlate della mediocrità. No, ma ha ragione. Ma no, ha ragione. Nella mediocrità. Il concetto ci sta, però ragazzi. Nella mediocrità. Voi siete veramente qua e ormai è un gioco... Siamo tredicesimi in Serie B. Ormai si butta... Credo, 4 giorni non lo so. Mancano 34 giornate. Ma questo non grazie a Cairo. Sentite, un po' di... No, ma non solo, grazie a lui. Grazie a questo allenatore. Posso parlare anche un po', perché poi, dato che poi uno pensa di difendere il Presidente o prendere le parti, eccetera, però qui c'è anche un tesserato del Torino FC che è in difficoltà, però il Torino gentilmente ci concede questa opportunità. Poi presentiamo anche gli ospiti più importanti che abbiamo questa sera in studio.